Un giovane esemplare di volpe si era allontanato un po' troppo dal suo territorio e trovandosi in difficoltà si era avvicinato a un gruppo di abitazioni nelle campagne di Santa Caterina. L'animale è stato soccorso e poi nuovamente liberato da un residente della zona, Calogero Barrile, e dai volontari del WWF Sicilia Centrale, dopo essere stato nutrito, viste le condizioni di debolezza in cui versava, ed è stato anche visitato dal veterinario nisseno Andrea Cortese. La volpe, come spiegato dal presidente del WWF Centro Sicilia Ennio Bonfanti, è stata liberata nelle campagne vicine alla riserva naturale di Contrada Scaleri, gestita dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. La liberazione è stata immortalata in un video realizzato grazie al progetto Sivan, sistema di vigilanza delle aree naturali nissene, sostenuto da Fondazione Conil Sud, del quale sono partner in Libero Consorzio di Caltanissetta e le associazioni Movi di Caltanissetta e Real Dream di San Cataldo. Il progetto Sivan, che include anche la riserva naturale Lago Soprano di Serra di Falco, mira a tutelare il patrimonio ambientale e animale, prevedendo azioni di tutela e salvaguardia attraverso l'organizzazione di servizi di vigilanza e perlustrazione.